Atterraggio, prima o poi l'avrà, intanto mantenga questa rotta. Ma devo atterrare, ho finito il carburante. Devo atterrare. Lo sappiamo, ma continui così capitano, non tenti più di scendere. Al cosente Egypstei, mantenga questa rotta. Continuano a sorvolarci, signore. Certo, finché non li autorizzeremo la terrazza. Hai idea di quello che sta succedendo agli italiani, generale? No, non ho idea del perché non ci autorizzano a scendere, colonnello. Hanno chiuso l'aeroporto. L'aereo egiziano è a corto di carburante. C'è un altro scala. Negativo. Gli ordini sono questi e prima o poi ci faranno scendere. Vediamo che sia così. Chiama la Casa Bianca, presto. Chiami il primo ministro Craxi a Roma, per favore. Sì, signore. Qui, otto il Raffaele. Il presidente Craxi, per favore. Non posso disturbare il presidente Craxi a quest'ora. Chi lo desidera? Il presidente degli Stati Uniti. È una questione della massima urgenza. Attenda. Buonasera, signor presidente. Mi dispiace di disturbarla a quest'ora, signor primo ministro. Ma è una questione di vitale importanza. Devo informarla. Che abbiamo una situazione di emergenza a Sigonelli. La capisco perfettamente. Sì, ne ero già stato informato. Le chiedo quale capo del governo italiano di autorizzare l'aereo egiziano ad atterrare alla base NATO di Sigonella insieme agli aerei americani che lo stanno scortando. Siete certi dell'identità delle persone a bordo dell'aereo egiziano? Senza alcuna ombra di dubbio. In questo caso saremo lieti di cooperare, signor presidente. Autorizzerò l'atterraggio. Falco 7, abbiamo luce verde. Fatelo scendere subito. Ricevuto, lo facciamo scendere. Reste in linea. Falco 7 è aegipta, cominci la discesa. Il suo aereo può atterrare, comandante. Avete carburante per altri quattro minuti. Sembra che gli italiani hanno dato il permesso. Falco 7 è a comando operativo. L'aereo egiziano è atterrato in questo momento. Restiamo qui a pattugliare il settore. l'Egipteire è tutto vostro adesso. Affermativo, Falco 7. Molto bene, signori. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo giù alla svelta, ci prendiamo con i banditi e ce li portiamo a casa con noi. State giù, state tutti giù. Non fatemi vedere. Nessuno può scendere a salire da quell'aereo senza di ordine. e che il passato. La scena è un'atteristica. Nessuno può scendere a salire della corsa. Nessuno può scendere la corsa. Guarda, guarda, sono arrivati anche gli americani. Poi, guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda! All right, let's go! Guarda!